È stato molto interessante, una serata molto piacevole. L'impressione è magnifica perché già amavo questi edifici, non li conoscevo tutti così bene e quindi anche poter approfondire su queste meraviglie anche appunto la storia e la descrizione così accurata mi è piaciuta moltissimo comunque. Tutto quello che riguarda Liberty mi è sempre interessato. Questo particolare aspetto dell'architettura è molto interessante e molto bello. Complimenti per l'iniziativa e per cui anche persone non addette ai lavori, io mi occupo di tutt'altro, hanno potuto apprezzare e comprendere la città e gli aspetti inediti che non sono sempre rappresentati. Grazie e complimenti per tutto.